Musica Ciao a tutti ragazzi di Santa 6 e benvenuti in questo nuovo episodio di Impact Flux Allora oggi dobbiamo andare avanti con la meccanismo perché Perché sostanzialmente abbiamo bisogno di un piccolo aggeggino che ci servirà tantissimo E ora vi faccio vedere qual è Ed è questo qua, il Digital Miner Però per poterlo fare ho bisogno di vari macchinari E sinceramente visto che abbiamo le quest da fare facciamo le quest E tranquillamente ci andiamo avanti e lo troviamo Devo andare quindi in Tune In Devo fare questo Basic Power che è la stonzata Heat Generator Faccio vedere, fa tipo facilmente Mi sono dato 22 fornaci e noi ce li abbiamo da qualche parte Se non sbaglio qua, cioè qua Ok, 1 e 2 Perfetto Guardate ho del Bacon Ho fatto tipo dei panini normali che ho già mangiato E ho tipo una saturazione assurda Quindi bam 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 Ok, 2 fornaci Bam e bam Ottimo Quindi abbiamo 2 Generator Dovrebbe aver sbloccato la quest, vero? Ok Ci prendiamo Questi Basic Anche se nella ricetta sono più facili Infatti da fare Quindi sì, Basic Ok, abbiamo anche una Metallurgica Infuser Un altro in più Wow Già ne abbiamo pochi mi dicono Lo mettiamo qua per il momento Ok Stato abbiamo 3 proprio a buttare ormai E ok Ah, questo qua Lo mettiamo qua Tutto un punto Va più figo Sapete? Questi Generatori sono tipo belli Però non producono una mazza Quindi è un bel problema Ok, dobbiamo farci un altro Basic Energy Cube Basic Dobbiamo craftarlo O dobbiamo tanto darlo? Consume Task Eh Basic Energy Cube Questo Oh, perfetto E me lo dà indietro tanto E ci prendiamo questi qua stavolta Ok Wow, questo è Ora non è pieno Va nulla E ok Fatto questo Andiamo a vedere cosa abbiamo Un Enrichment Chamber Che ci serve E Production Factory Ehm Basic Factory Quella basilare Vabbè Logistic Transpuser Dovrebbe essere facile da fare Andiamo qua Non ho mai fatto queste robe Perché in effetti Non mi sono mai interessati Perché Esattamente ci sono tanti cavi diversi Non è che ci serve tantissimo E Ah Steel Cavolo Fare lo steel adesso è un bel problema Abbiamo tanto quello normale Andiamone Però possiamo sempre Bruciare questo steel Sapete? Opla Dovrebbe bruciarsi In teoria E in pratica Mmm No Ok Lasciamo stare E Non si può fare qualcosa Per bruciarlo Crucible furnace Però è troppo complicato Per il momento Quindi lasciamo stare Ok Allora dobbiamo Bisogna di ferro E di carbone Non è un problema Vi faccio vedere come si fa Tranquillamente Avranno due pezzi di questo Uno di questo Qua Ok Lo facciamo fare Quando fa il ferro Poi devo rimetterlo A capo dentro Per fare direttamente Ah Mi serviranno Un altro Mi servirà Ok Quindi Altri due di questi Ok Oddio Ha fatto? Ok Un altro ancora Questa riccia d'iron Poi va Fatto diventare Direttamente steel Perché ci servirà Quindi Per farci lo steel Che cose carine E coccolose Ok Questo qua Vai Fai steel Che mi serviranno E ce ne andano 8 Spero di si Poi cosa dobbiamo fare Sicuramente non me lo ricordo Ah basic factory Basic factory Dovrebbe essere facile La basic factory La basic quindi Dovrebbe essere semplicina Ok Ah giusto Devo farlo Eh Quale vuole adesso In realtà sono tutti uguali Eh Poi dipende Sostanzialmente ragazzi La basic factory è uguale Solo che cambiano I recite type Io andrei per lo smelting Molto più semplice Da fare Forse Abbiamo tutto Tranne sta roba Ovvero Questo piccolo cosetto Che si fa Con altri 4 lingotti di ferro Quindi mi servirà Un bel po' di ferro Quindi quasi quasi Diciamone 10 Perfetto 20 8 Ok 20 E 10 Perfetto Questo io ero va cotto Ah proprio Dobbiamo un sacco di robe qua Diciamolo direttamente nel Qua dentro Tanto ci siamo Ok Fai un bel po' di ferro Che poi lo passiamo giù Tranquillamente Ok Allora dicevamo Facciamoci Questo benedetto coso Ah ho trasferito tutta la roba Qui dentro Ora qui dentro Sono tanto tipo Tanti minerali da cuocere Per il resto invece Ho già fatto tutto Quindi GG per questa cosa Perché è fantastica Comunque Una di questi Insieme a glass 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 Penso vada bene anche questo No Presure the tube Mi sta sopra No Ok Non va bene questo glass Glass normale Presumo allora No Presure the tube Uguale No Mi servirà Abbiamo detto Diamine Di nomi non me li ricordo Ah logistic Transpuser Logistic Ah ok Si si fanno con questo Perfetto Uno di questo E Tadà Abbiamo il nostro Logistic Transpuser Questi qua li mettiamo dentro Anche questo Anche questo In effetti anche questo Questa team va adesso Da dentro Ok Vediamo un po' come va Sei Mettere Ah qua abbiamo ancora Del call qui dentro Quindi wow Fantastico E qui dentro invece niente Perché senza Mentre non abbiamo fatto Ancora nulla qui dentro Ok perfetto Quindi facciamo fare sti cosi Vai Macera Mi serviranno altri 4 Di questi steel dust Per poter andare avanti Vediamo un po' cos'altro C'è invece dall'altra parte Richmond chamber Sapete che Aspetta Enrichment Poi potrei usarla Per farmi la factory Purification chamber Eh Ok Posso farmi questo Due cose che Velocemente Proprio una stronzata Silk housing solamente Mi serve ancora Arrifatti faccio quelle due cose E una faccio prima Ora probabilmente mi chiederà Di fare tutto Ma fa nulla Purification è molto più figo Da mio parere Quindi wow Molto meglio E ok Le vaste cose Le vaste cose Mettimi a cuocere Sti piccoli lingotti prima E davvero È una cosa assurda Questa velocità di cottura Tipo La amo La amo 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 E bam Ok Comunque sto A cercare di quarzo Perché sostanzialmente Ne ho pochissimo Mi servirà davvero Un botto di quarzo Quindi Eh Devo andare un po' avanti E farne altro Però è un po' difficile Sinceramente qualcosa Non è una cosa molto semplice Comunque Il manifesto che Enrichment Enrichment chamber Ok Allora uno di questo Devo farmi Perfetto Steel housing E resto Ho fatto Ottimo E devo farmi la factory Factory tranquillamente Factory Ok Factory La basic factory Che si fa in questo modo Ok Ah Bisogna di un basic controller Se non sbaglio I basic controller Si fa con Un pezzo Di redstone Ok E Dove sta Dove sta Dove sta Dove averne tipo un sacco Dovrei averne Dove Dove diamine sono No bugia Non ne ho un sacco Allora Ok Di osmium Wow No dovrei averlo Qui Si è un sacco Da macerare Quindi magari mettiamo a macerare Che in frattempo Ci servirà Ok Qua abbiamo finito il coal Quindi Perfettamente così Ok Fammi il coso E Mettiamo a cuocere Sta roba nel mento Va Ok Nice Vediamo come va Ok Fammi questo basic Perfetto Ricordavo bene i crafting Ogni tanto li scordo E Mi servirà Enrichment chamber Enrichment chamber Perfetto Eccolo qua Basic factory Fatto Era quella vero Ok Enrichment chamber L'ho fatta E anche basic factory E Spendiamo Questo steel Che mi serve Ok Questo configurato Non ci serve per il momento Va caricato Però Come ho detto Non ci serve per il momento Lasciamo starlo Lasciamo stare E Ok Qui come abbiamo Uh jetpack Uh Questo jetpack è molto più figo Anche questo wind power E Ok Questo ho fatto Qua devo fare adesso Cos'ha Iron dust E gold dust Oh mio dio Iron dust E gold dust Iron Dovrei mettere a macerarlo Ah Ok Ok Un bel problema Adesso Dobbiamo Macerarlo In quel modo E Non penso Ci sia qualche crafting Che permette di farlo Tranne Il maceratore stesso Quindi magari Vediamo un attimo Se riusciamo a fare Questi wind power Se non sbaglio Se non sbaglio Sono facilissimi Da fare Si fanno Si è abbastanza facile Ferro Ok Questi tablet Si fanno Sempre questa roba Quindi Ah Continuiamo di questi Alloy Alloy L'avevo fatto il tablet No ce l'avevo Vabbè fa nulla Tablet E wind Wind Ah mi sembrano comunque due Quindi Ferro Ferro Iron Tanto iron Ok Iron E redstone Mi servirà a prendere anche un sacco di redstone ragazzi Ok Mettiamone dieci Ok E Mi serviranno Cinque per il momento Forse anche meno No cinque Sono due Dovrei averne ancora Zero Stanzialmente quindi Mi serviranno Vediamo un po' Wind Wind Uno Un altro in più Quindi mi servirà Uno E Due di questi Sono due Quattro Cinque sei in totale Ok quindi sei Me ne serviranno Perfetto Ok metto un in più Perfetto fammi questi Roriched E riesco a farne già uno ragazzi Quindi Vi faccio vedere che è fantastico Anche come costruzione Tipo EOP E Ah mi servirà anche il coso Quindi probabilmente mi servirà anche dell'osmium Oddio L'osmium sta cuocendo vero? Ok mi ha fatto un sacco di osmium Perfetto Ah qui c'è questo carbone Mi serve la redstone Quindi due di redstone Per esempio E Facciamo due di questi Perfetto Vai cuoci come se non ci fossero domani Qua come va? Nice Fatti altri E a sto punto mi faccio Sti cosi del wind Così possiamo direttamente farci tutto Quindi uno E due Tablet E ok Il crafting rimanente è solo questo Perfetto Mi servirà stanto due di quelli E siamo a posto Uno E qui un altro Perfetto Vai fammi l'ultimo Nice Abbiamo tutto Ok Ah Ehm Com'è che si chiamavano adesso? Ehm Circuit No Ehm No Circuit Ok si hai ragione Circuit Ok Bam Windmill Ehm Ok uno di questo anche Arrimento fatti Ehm Com'è che non possono staccabili E mi serviranno anche dei Pipe Ehm Non che pipe mi servirebbero Depressur No Come erano Conduit No come cavolo si chiamavano quelli della meccanism Sapete Meccanism Ehm Si chiamavano Si chiamavano Si chiamavano C'era un nome strano Tipo Ah Cable Un nome strano Cable Va bene Vabbè solo uno Ah ne ho soltanto uno Ehm Però si può fare con lo steel Quindi steel Ehm Questi trasportano 200 RF E l'altro invece quando trasportano Ehm I nostri cable No I nostri conduit Conduit trasportano 1200 Ok Meglio questi sicuramente Lasciamo stare Ehm Ok Abbiamo bisogno di dare energia Io prenderei un attimo Questa cosa E devo cedere quanto è figa Questa Questa cosa del vento Allora più in alto meglio è Siamo a livello 60 È un livello abbastanza medio Quindi bam GG Va benissimo Ehm Dovremmo andare di qua Secondo me Forse se vado di qua giù Dovrei trovare Ah ok No Sto posto non era quello che volevo trovare Però ho scoperto una cosa interessante Ovvero da qui sopra Si può arrivare A tante parti Carine Ok Dovrei andare quindi più avanti Proprio Quanto è Questo è 61 No 70 240 Ok E a stavolta faccio altri conduit Sapete Andato dovrei avere il necessario Ehm Si dovrei avere tutto Ah mi servono tanto questi Mi serviranno 8 Ok 16 Binder Binder si chiamano Forse ce li ho No il binder non ce l'ho Ok mi tengo la cuocere tranquillamente Ottimo Come va ma c'è l'azione Ah facendo ancora osbium Oh mio dio Osbium all'infinito proprio Ora non abbiamo più bisogno di osbium ragazzi Qua non ci sono dubbi Ok 8 Nice Facciamo i nostri conduit Almeno ne abbiamo un po' di più E avremo energia solare Wow Cioè Energia del vento Che poi l'energia solare è uguale Più o meno eh Ok 8 16 Ottimo Sono bello Ho anche fatto la C'era una parte della quest Mi chiedeva sempre di costruirli Ricordate Oh mi ha dato comunque Ho scubato anche molto buono Se veniamo sott'acqua Però non ci interessa Magari prendiamo altro still Sì Ok Però abbiamo anche questo scuba Così a caso Dovremmo aver fatto Ah 22 su 32 Abbiamo fatto Vabbè Ci serviranno ancora tantissimi altri Allora 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 Faccio vedere un attimo come vanno posizionati Tutto il resto Prima di tutto però troviamo la posizione giusta 70 40 Ho andato a questa parte allora 70 E 40 32 Ah lì ho rotto qualcosa È vero Guardate che Lo aggiustiamo Almeno Non facciamo Casini Ok 70 40 Ok qua sotto Tipo Ouch Va benissimo Lì devo stanto salire da qua Allora Ehm Devo mettere La mia Piccola Cosa A caricare E L'unico modo che ho Al momento è prendere questo E caricarlo Mamma Ok Ehm Empty Dovrebbe tipo Riceverne già dall'altra parte Ehm Tipo Mh A questo punto Facciamo così Scusate Facciamo in questo modo Sì ora si spendirà sicuramente L'altra cosa Ah no vabbè Posso fare direttamente così Metto questa Mendoci carica Ok In un tempo Teniamo acceso il nostro ME Da questo lato Perfetto Così Ok Sta ricoprando energia No Ehm Da questa parte Dovrebbe darla Ok Ah La stava dando Però Poi perché no Ah ok L'uscita Perfetto Ehm Mettiamoci il nostro piccolo jetpack A caricare Perfetto qua Ok Mi si verrà giusto Non tanto il ref Però almeno giusto Per iniziare Dovrei fare anche il potenzialmente Perché questo qua fa davvero Cagare Dir poco Ok Perfetto E ci metto i cavi Ottimo Dove andare un attimo Pi dietro Quindi Probabilmente è meglio Far così Ok Ok Allora Facciamo così Facciamo direttamente In questo modo Cioè saliamo su Più che possiamo Vediamo dov'è Ok qua Perfetto Allora Allora Dovevo fare Oh cristo Ah Merda Dovevo fare in questo modo Senza uccidere nessuno E senza far morire tutti Però Mi sa che il creeper non voleva Quindi Sorry creeper Solo soltanto che Un meteorite non li colpisca Perché Quello potrebbe essere Una pessima idea Ma penso che siano resistenti A voglia Ok Dobbiamo farli salire Più che possiamo Ehm Ce la facciamo Sì a voglia Ok In questo modo Ci mettiamo I nostri Wind Rivolte in questo modo Perché ora rompiamo Sta cosa Sto tronco Non deve avere Qualcosa per rompere Facciamo con il nostro Windmill Wow Distruggiamo gli alberi Con windmill Proprio O piaccine Ok Spari a caso Vicino casa Perché sono delle persone Orrende Opla Comunque avete messo like ragazzi No E perché non l'avete fatto Comunque va messo in questo modo Mi raccomando Ve l'ha rivolto Perché sostanzialmente Questa cosa verde Dovrebbe stare attaccata Ora vedete Sta producendo un po' La massima L'output è 384 Che comunque è buono Non è il massimo Però va bene Ok E sta producendo energia Bam Ok Ora non abbiamo più calo di energia Sicuramente Problemi di energia Stop Ok Ora mi chiederebbe di fare questo E ti pareva Quello che ho iniziato Mi sembra giustissimo da fare Di chiedere cose stronze Comunque stanno funzionando Tranquillamente Sono una cosa fantastica In termini di visibilità Tipo Mi piacciono un sacco Perché lo li faccio sempre E producono anche un botto di corrente Su quello non ci sono dubbi Quindi ve le consiglio Davvero un sacco Perché sono carinissime Comunque Non è il fatto che qui Dobbiamo spollere Dobbiamo togliere queste robe E qui sotto Ci fa questo basic Ma è inutile Tanto comunque Non crea energia Oddio E ora me lo prendo Ok Perfetto E mi servirà ancora Un po' di stone Ok Ah dovrò chiudere anche Questo buco Ok Poi lo chiudiamo da sopra Tranquilli Ok Bam A quelli no Qui sopra lo devo rompere Ok Perfetto Abbiamo fatto anche questa roba E siamo a buon punto Questo free runner Se le cose le lasciamo Ottimo E allora 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 Vediamo un po' Cosa tu ci chiederai Da fare Il taking fly Jetpack Questo qui è un po' più carino Magari Però comunque Inutile Perché se avete l'idrogeno Quindi non ce lo facciamo Allora possiamo farci l'advanced Che si farà sicuramente Ma qua sicuramente Con questi Volete vedere? Ehm No invece no Eh invece no Si fa in questo modo Basic energy cube Osmium Rice d'alloi Una stronzata quindi Mi serviranno alloi Quindi Osmium 4 Precisamente Ok Li vanno messi qui dentro Probabilmente Quanto abbiamo? Quattro precisi Perfetto E Servirà adesso Stanto questo Ora non so se Lo devo scaricare Sinceramente Però un'idea ce l'ho Su come scaricarlo Sinceramente Ed è molto utile Ed è molto utile Come cosa devo dire Quindi wow Davvero ottima idea ragazzi E ok Ora Dovrebbe arrivare la fame Perfetto Faccio vedere quanto è buono Sto panino Dai Ok Andiamo in jetpack Guardate quanto dà Un sacco ragazzi Un sacco davvero Ok E' vuoto Nice Ci servirà questo vuoto Ma tempo qui come va Quattro Ah no Non erano queste Quelli col ferro Con l'iron E' vero Quattro Varca varca E' aggiusto Mi serve anche Dai Sono 4 Precisamente 1,2,3,4 Ottimo Sono davvero un io Tanto comunque ci serviranno Su quello non ci sono dubbi Però abbiamo perso tempo Abbiamo perso tempo Cosa brutta Ok Questo lasciamo E probabilmente Dovevo farci il pulverizer Che poi sarebbe No non era il pulverizer Come si chiama Si chiama Macerator Se non voglio E' No non c'è l'industri Caps No non era Macerator Era Il crusher Ok Il crusher Che dovrebbe essere Semplicissimo da fare E' Si Una stronzata proprio Ok Steel casing Oddio Ah Ho piena la cosa Vero Si è piena Perfetto E' Crusher Ok Perfetto Ho fatto un crusher Ottimo Abbiamo dei bucket vuoti Questa cosa va Attaccata all'energia Qualsiasi In questo caso Lo mettiamo Qua sopra Ok E funziona come un nome Il maceratore Quindi tranquillamente Va macerata la roba E ora devo darla Oppure dobbiamo Macerarla Perché se devo darla Non è un buon problema Ah ok Dobbiamo dobbiamo Ok Una stronzata ragazzi Quindi semplicemente Prendo 32 di questi 32 di questi Li faccio macerare E poi Sostanzialmente Li cuocio Dovrebbe In teoria Andar bene Speriamo che sia così Vediamo un crusher Ah Aspettate Allora Vediamo un attimo Un recipe Perché non voglio Preoccuparmi Se ho metto del ferro Per esempio Silver Mi da Silver dust Però Però io so Ok Ok Direttamente così Perfetto Maceriamo ragazzi È molto lento Davvero Però Con i patriciamenti vari Può essere OP Ok Allora comunque Guarda Finito Vero Pam Fatto Perfetto Perfetto Stupido Sto prendendo per il culo Soltanto che voglio Che tu viaggi veloce Viaggi veloce Ok Facciamone fatta un po' questa roba Ottimo E avremo quindi anche il potenziamento Tranquillamente Un altro E dopo quello Cosa c'è Prendete che sbloccherà altre cose Qua dovremmo fare anche quella della Termal Expansion È più facile Quella della Enderio Invece è lunghissima ragazzi Ci richiede proprio Tantissimo tempo Quindi faremo verso la fine Ok comunque Advanced fatto Bam E Fanno la Submit Ah lo vuole un po' carico almeno Vabbè È una stronzata Così devo fare Ok Dovrebbe dare energia Perfetto Proprio pochissima Non ci interessa che si sia pieno o no Ok No Ah lo vuole tutto Ma sono stronzo allora Sappio Devo riempirlo tutto ragazzi Sì vabbè ciao Sai quanto ci vuole riempire sto coso Quanto Quanto può tenere questo Ma dice manual submit Eeeh Mmm Ah vabbè sì ho capito Che può raggiungere quello Però Eh sì ragazzi Sai questo non lo riempiamo mai Però mi sa che Non lo chiede nemmeno No vabbè Ho bisogno forza di riempirlo tutto E ci vorrà un'internità Allora a sto punto Lo prendiamo Submitente lo mettiamo qua Per il momento E No budget Qua per esempio E lo iniziamo A usare Oh guardate adesso La differenza si nota eh Devo che non si spenga questo Cosa che sembra Non Stia cadendo E ok questo lo prendiamo Per il momento Mettiamo magari Da qualche altra parte In futuro Allora come va comunque Col ferro Eh In età Va bene ragazzi Questa cosa lo faccio off camera Tanto quella è facilissima E direi che per questo episodio è tutto Ci vediamo nel prossimo video Da la sua volta Sei tutto Ciao ciao Ciao